Un incontro che volevamo fortemente perché sentiamo la necessità di una collaborazione, di un'intesa con i comuni per tramite dell'Anci, comuni ai quali riteniamo come categoria, come ordine professionale, possiamo dare un supporto, un contributo fattivo in tutte le attività procedurali. Mi riferisco ai bandi, agli incarichi che potremmo valutare insieme ai comuni offrendo un suggerimento, un supporto assolutamente gratuito in sostanza, senza voler imporre niente, ma soltanto nell'ottica di dare un servizio di funzionalità e di garanzia per la collettività. I bandi di gara sono un po' una nota dolente in questo senso? I bandi di gara sono una nota dolente perché spesso e volentieri ci troviamo a dover segnalare incongruenze o mancato rispetto di legge del Stato, spesso e volentieri. E proprio per questo un nostro supporto potrebbe servire per evitare atteggiamenti non garantisti per il cittadino. Altro tema importante e molto attuale e toccato, questo del piano scuole con le proposte del governo. Sì, adesso è un tema di grande attualità quello dell'edizia scolastica, le scuole purtroppo in Italia soffrono di una carenza di manutenzione e necessitano di ingenti investimenti per la messa a norma. Il governo sta interessandosi a questo problema in particolare. Anche lì noi, abbiamo detto al Presidente dell'Anci, potremmo dare un supporto, dare una collaborazione anche nel valutare le modalità di intervento. Ho segnalato parallelamente al Presidente dell'Anci che insieme all'edilizia scolastica meriterebbe un significativo interessamento anche all'edilizia residenziale perché, come spesso dico, il cittadino si preoccupa della scuola dove va il figlio, ma magari l'edificio dove abita si trova in condizioni forse anche peggiori. Quindi anche l'edilizia merita una particolare attenzione e credo che le istituzioni, insieme a noi, se vogliono, dovrebbero dare una corretta informazione proprio sullo stato in cui gli edifici si trovano. Ultima questione importante, questa della formazione obbligatoria che interessa ovviamente molto i comuni perché gli ingegneri sono dentro i comuni. Sì, adesso c'è questa normativa che impone una formazione continua obbligatoria per la nostra categoria come per tutte le proiezioni e al Presidente Danci abbiamo dato anche lì la nostra disponibilità per avviare una serie di attività formative per i nostri colleghi ingegneri dipendenti delle pubbliche amministrazioni, dei comuni in particolare, attività che potremmo gestire noi e dovremmo gestire come ordine professionale in quanto titolati al rilascio dei crediti formativi, ma questo in accordo con i comuni per tramite appunto dell'Associazione Nazionale dei Comuni.